Certo, in questi anni difficili le forze dell'ordine sono state chiamate a un duro lavoro. Domani la polizia compie 170 anni, noi abbiamo incontrato il prefetto Giannini. Prefetto Giannini, la polizia compie 170 anni, lei è alla guida da poco più di un anno ed è stato un anno tormentatissimo. Come l'ha trovata e come è in queste ore la polizia? Beh, la polizia è molto impegnata perché la situazione, come lei ha detto, è estremamente complessa e il grande impegno della polizia è quello di garantire la normalità. Questo garantire la normalità della vita, la serenità e la guida dei cittadini anche in una condizione così difficile per me è stato un eccellente lavoro. La polizia oggi affronta fenomeni radicati, sto pensando alle mafie, ma anche fenomeni emergenziali come per esempio le cosiddette baby gang, la criminalità giovanile. Sì, sono dei fenomeni che seguiamo con grandissima attenzione e affrontiamo con grandissima attenzione. Ma la vera sfida io penso sia quella di arrivare alla prevenzione, di arrivare a comprendere le profonde ragioni di questo disagio che sono certamente aumentate con la pandemia per cercare di prevenire. E su questo va fatto squadra con diversi fattori, non è solo un'opera di polizia, ma ci vuole l'educazione, ci vuole le famiglie, ci vuole la scuola, la cultura. Molti reati sono in diminuzione, sto pensando alle rapine in banca, oggi però ci sono dei fenomeni come il cybercrime, le truffe online, reati commessi dietro al pc che preoccupano. Stiamo avviando una nuova direzione centrale che metterà insieme le competenze della polizia postale, quindi nel settore cyber, ma anche quelle della polizia scientifica, quindi un polo tecnologico di investigatori. Quello che però è molto importante, specie per alcune categorie, mi riferisco agli anziani, alle famiglie, è anche un'attenta opera di comunicazione e di prevenzione per non cadere vittima di queste truffe, di questi reati odiosi.